Incendio questa mattina intorno alle 10 nell'area tecnica dell'ospedale Mazzini di Teramo. Il rogo si è innescato durante i lavori che stavano riguardando la torre di raffreddamento e vaporizzatrice ed è proprio lì che è scoccata la scintilla che ha causato l'innesco dell'incendio, sviluppatosi nella parte interna della nuova struttura. L'intervento immediato del personale al lavoro e subito dopo dei vigili del fuoco ha consentito lo spegnimento del rogo. L'area tecnologica in cui si sono sviluppate le fiamme è molto distante non solo dalla centrale termica ma anche dalle strutture sanitarie. Nessun pericolo è stato corso da degenti e personale sanitario al lavoro e nemmeno dalle strutture in poche decine di minuti è tornato tutta la normalità. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche polizie e carabinieri. Sul luogo dell'incendio è arrivato subito anche il direttore generale Maurizio Igiosia per verificare che tutto fosse sotto controllo.